E' un altro schiaffo alla Sacra Corona Unita, la sentenza con cui il Tar di Lecce blocca un appalto da oltre 1.600.000 euro alla Edilcav di Ruffano. Un provvedimento che sbatte ancora una volta la porta in faccia all'azienda in odor di mafia e con cui si respinge il ricorso che aveva presentato contro il Comune di Specchia e la Prefettura di Lecce. La Edilcav infatti è risultata vincitrice dell'appalto per i lavori di adeguamento dei recapiti finali alla rete di fognatura pluviale, gara di evidenza pubblica che il Comune del Sud Salento è esperito nel settembre scorso. A novembre la stipula del contratto, poi a metà dicembre il sopralluogo dei carabinieri negli uffici municipali, all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato un altro ricorso della Edilcav, quello relativo ai lavori di via Cagliopomponi a Lecce, con il contratto annullato in quel caso del valore di circa 800.000 euro. Poi è stata la volta di parabita, dove i lavori di modesta entità hanno riguardato il rifacimento delle strade urbane. Anche lì l'amministrazione ha annullato il contratto in autotutela, sebbene il Comune non abbia aderito al protocollo antimafia. Sulla società Edile infatti pesa l'esistenza della certificazione interdittiva emessa dalla Prefettura di Lecce il 22 aprile 2010. È per questo che il Comune di Specchia ha deciso alla fine di procedere all'annullamento del contratto in autotutela. Il Tar è stato chiaro e non ha usato mezzi termini nel ritenere il ricorso della Edilcav infondato. L'informativa interdittiva infatti è sorretta da molti elementi indiziari precisi, gravi e concordanti, che danno conto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella società. Le indagini del reparto operativo dei carabinieri avevano evidenziato infatti la presenza all'interno dell'azienda di soggetti ritenuti vicini alla quarta mafia. Nel mirino degli inquirenti l'ex amministratore socio unico Vito Cacciatore, tra l'altro già condannato per falsa testimonianza nel processo per la strage della grottella. E già nel 2008 il procuratore capo Cataldomotta aveva riferito della Edilcav nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. L'azienda di Ruffano venne portata come l'esempio della presenza ancora della SCU nel capo di Leuca.